bella ragazzi a tutti del comandone veneziano, FIFA 14, Borussia Dortmund, Friburgo, campione 5 minuti sereno andiamo! ragazzi mi scuso se nell'ultima partita di qua su FIFA sono incazzato un po' più del dovuto anche con le parole cerco di andare un po' più tranquillo perché non è il caso anche se il tuo gioco a volte ti porta veramente a bestemmiare in croato antico raga andiamo vai siamo in casa, sereno l'obiettivo è uno solo portare a casa i tre punti anche perché il Bayern Monaco ragazzi qua vi vince tutte quindi dobbiamo cercare di vincere le scuole dirette e sperare di un suo passo falsa noi non possiamo fare passi falsi dopo i quattro pareggi consecutivi delle prime giornate dai ragazzi Friburgo purtroppo è una squadra fastidiosa dai c'è la gamma noi lo svalore c'è la gamma noi lo svalore c'è la gamma tra fu lì viene sempre nel giro che c'è la gamma noi lo svalore c'è la gamma oh Pogba, 1-0 Borussia, Paolino, Pogba, partenza a stromba tutto, a stromba tutto. Il campionato è un'altra nostra dimensione, quindi lo stiamo calmi. Pogba, Pogba, schienato in avanti, prima ha portato il gol, ha propiziato il gol. Merda, occhio, attenzione, c'è il palo. Mamma mia, che culo qua. Fortuna come indiana, per una volta un po' di fortuna anche a noi. Ce l'abbiamo, non lo squadrone, ce l'abbiamo noi. Merda, se si scivolate come indiana, dai, temporeggia, temporeggia, no. Ormai in aria, ormai in aria, c'è il gol. E invece no. Mamma mia, ragazzi, che sofferenza adesso. Che sofferenza, Dortmund. Oh, lolololoo. Eh, il Friburgo ci prova adesso, il Friburgo ci prova. Non ci sta, ragazzi, non ci sta. Ma come giocano, dopo il gol, ragazzi, ci sono scatenati. Mamma mia, ragazzi, che gol e silenzio. Che gol e silenzio. Eh, silenzio. Buona parola. Dopo, non potevo marcare nessuno, praticamente. Cioè, non riuscivo a tenere nessuno. Tutti Maradona. Gran calma, gran calma. Molto bene, Pogba. Possiamo tranquillamente tranne in vantaggio. Pogba, Pogba, la torre del primo gol del Borussia. Pogba. Carrasco non ci arriva. Attenzione perché il Friburgo è una squadra fastidiosa, l'avevo detto. Dai, Fioi. Dai, che... Eh, lunghissima. Lunghissima, purissima, levissima. Carrasco. Carrascone. Carrascone entra in aria. Ah, bravo, ma c'è. Reus. Per Pogba. Pogba di testa in cielo. Uno a uno risultato giusto fino a questo momento, purtroppo. Un Borussia un po' svogliato adesso, eh. Non scappare via il difensore. Bravo, Strucmanone. Eh, Strucman è tutto veramente nel vivo. Carrasco è attentato con qualcosa di un po' troppo difficile, forse. Ormai è sicuro dei propri mezzi. Il buon Carrasco. Per Pogba è roba tua, questa. Dio mio, in trenare. Mamma mia. Mamma mia. Ma non ci siamo oggi. Dopo rigore. Mamma mia. Che vergogna. Che schifo. Che schifo, madonna. Che schifo di rigore che gli hanno dato. Ora resto a fermo. Tanto la paro. Mamma mia che furto. Mamma che rigore inesistente. Proteste a Dortmund. Reus. Era in vantaggio. Sto perdendo. Ma sto giocando male adesso. Riviera. Riviera. Incredibile a Dortmund. Incredibile a Dortmund. La beffa dortmundiana. Reus. Per Pogba. Pogba. Fuori. Ma basta. Ma basta. Incredibile. Non ci voglio credere. Sto perdendo. Se perdo questa, raga. Il Camperato se ne va. È vero che manca tanto. Ma il Bayern quest'anno le vince tutte. I campioni d'Europa. Ma basta. Basta però. Madonna. Che nervi. Quando fischiano stifali. Che non esistono. E' la drata. La drata del Friburgo, ragazzi. Hummels. Vai Reus. Vai Reus. Lancia Riviera. Che non sta giocando proprio una partita indimenticabile. Ma forse adesso Riviera si può rischettare. Attenzione. Era bello. Era bello. Ma il portiere ci arriva. Non c'è nessuno per il tapino. Non merito assolutamente di perdere. Ma il calcio è spietato. 2-1 per il Friburgo. Il Bayern vince con la 9-1-0. Molto, molto bene. Sprofondiamo a meno 9 secondi. Ma a meno 9. Carrasco. Carrasco impazzito. Carrasco impazzito. Ma sbaglia anche lui. Intenito il Friburgo. Oggi viene tutto. Va tutto il Friburgo. Dopo il gol del Borussia. Fuori gioco. Ma basta. Niente, oggi sono nervoso. Sono più nervoso del solito. Perché non... Vedo comunque un'ingiustizia per il rigore. Ecco, se faccio questi errori, metto di perdere. Però anche loro sbagliano. Anche loro sbagliano. Anche loro sbagliano. Vai, Royce. Questo deve essere gol. E Royce. Silenzio. Marco, Royce. 2-2. Siamo ancora in partita, Beppe. Errore clamoroso del Friburgo. Dai, ragazzi. Dai, ragazzi, Royce. Finalmente. Grande Royce. E' un'unico giocatore che veramente mi ha deluso è Lewandowski, che ho venduto al Chelsea l'altro anno. Fuori gioco. Va di testa molto bene. Va Riviere. Attenzione. Sbilanciatissimo il Friburgo. Sbilanciatissimo Royce. Non ci voglio credere. Ancora non c'è il tap-in. Ma perché? Ma perché? Quanti errori del Friburgo nel secondo tempo? Però, ragazzi. Dobbiamo fare dei cambi. Rosa. Riviere. Proviamo. Aubame. E qua... Non è che ho tante chance, in realtà... Rimettiamo Peace Check. Per Baines. E basta così, intanto. Bisogna vincere la per la Pekkerby è in vantaggio. Royce di cuore. Royce non ce la fa. Zuckerberg-Zuck. Ma recupera Baines, che è pronto a uscire. Bravissimo Hummels. Riviere. Riviere. Riviere la dà benissimo. Baines, dai, prima di uscire il miracolo. Dai, prima di uscire il miracolo. Vai, Baines. Vai, Baines. Mamma, che sgroppata di Baines. Pogba. Non ci arriva per un millesimo di schifezze. Non ci credo. Pogba. Ha fermato Pogba all'ultimo. Va bene. No, no, il beffone, ti prego, no. Stiamo dominando. Hummels. Cagatissima qua di Pogba. Adesso le salvano tutte, le salvano tutte. Vai, Royce. Royce la lancia. Royce di Bava. Royce di Bava. Royce. Vede Riviere. Ma vai a quel paese. Ma vai a quel paese. Era gol questo. Era gol. Era gol. Era gol. Era gol. Pogba. Pogba. Pogba per Riviere. Fuori gioco. Ma ci disinteressa Carrasco. Bravo. Guarda qua che... Guarda qua. Guarda qua. Ha fatto il dribbling della vita. Sto qua. 76. Non posso fare i cambi perché la palla non esce. Bravissimo. Vai Carrasco. Carrasco. Ma che cavolo. Questo è un tiro brutto brutto. Eh, mancano 12 minuti. 2 a 2. Inspiegabile. Questo è il caso. Però questo è il football. Questo è il football. Sinceramente non devo perdere perché c'era una cosa vergognosa. Trello. Incredibile. 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 L'ho visto subito. Si era visto subito. Che schifo. Carrasco. Incredibile. Qua dormono. Qua dormono. No, non so. Sto zitto. Ma la basta. Sto zitto che è meglio. Silenzio stacco. Sconfitta questa chiaramente che va a compromettere tutto per il campionato. No, no. Non va più niente. Non va più niente. Addirittura andiamo a perdere 3 a 2. Non ho parola. Io non ho parola. Guarda, mi resti prego. Guarda, mi resti prego. Stai zitto. Non ho parola perché mi girano le palle. Royce. Royce. Ancora. Neanche il parete. Neanche il parete. Tago Sil. Chi è? Chi è? Chi è? Ancora. Ancora. non ho parole sconfitta no immeritata di più 14 tiri a 6 ragazzi primo novembre è neve ad Hannover però veramente sono molto molto deluso 9 punti dal Bayern ormai la vedo dura adesso sono passato in Coppa di Germania primo turno qui morti e non lo so c'è ancora una ligga sarà di è una bundesliga durissima adesso guarda che nevicata ragazzi mamma mia vai cerchiamo di fare il nostro e cercare di recuperare se ne vedo molto dura e che addirittura la sconfitta è stata una beffa però c'è quanti mi sono mangiato sono tornati ai vecchi tempi e poi la prima sconfitta è anche Royce 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 1 a 0 1 a 0 Royce 1 a 0 Royce sotto la neve 1 a 0 di Royce sotto la neve però c'è molta delusione ragazzi c'è molta delusione comunque la prima sconfitta è arrivata da po' tante giornate una bella serie di vittorie è addirittura a meno 9 è un po' triste però d'altronde il Bayern ha una potenza indescrivibile e quindi ci sta la volevo portare una Bundes almeno Royce Royce 2 a 0 tutto troppo sembra pazzesca pazzesca questa stagione indescrivibile indescrivibile passiamo da vittorie sensazionali in realtà non è ancora vinta comunque gol semplici situazioni ben orchestrate a risultati beffardi come il 3 a 2 di primo non lo so sinceramente non lo so Tiago Silva per poco recuperava palla Tiagone per il momento non c'è storia ragazzi sotto la neve who else Royce doppietta bellissima e la prova da Andrea Riviere Emanuele corriamo più dell'avversario oggi finalmente siamo tornati da questo punto di vista Carrasco bello ma la può farci per Zilla Riviere miguerone per Royce Pogba bel tiro di Pogba ancora ancora Pogba come non è proprio triste ragazzi è un po' triste perché 9 punti sono tanti sono troppi forse non posso permettermi errori però c'è ancora la UEFA Champions ragazzi e la UEFA Champions se giochiamo poi entra anche Suarez ammonito per Amires Pogba Pogba anche lui ha cominciato a segnare con regolarità Pogba per Tiago Silva vogliamo il gol di Tiagone Tiagone parata nel portiere lo squadrone e c'è la mia è quella nostra no no di uff da Amires rimessa per noi è che siamo già arrivati secondi l'altro anno cavolo il collezionare due secondi posto sarebbe abbastanza una beffa poi comunque penso che meno di secondo quest'anno no Carrasco 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 Traversa e Marchetto come il nome stai calmo Traversa e che Traversa Carrasco c'è sempre sono felicissimo di quest'anno di Carrascone di Carrasco Reuss bravissimo Reuss Ancora Strootman Stavolta per Pogba Tiago Silva Un passaggio per il portiere purtroppo Tiagone Grande Tiagone Grande Tiagone Occio Occio Rigore Ennesimo rigore Ha morito Ha una pulizione Meno male Ammazza che traversa Non è ancora finita Questa partita Non è ancora finita Pogba Stiamo strameritando Se a parte Questa occasione qua Ma anche attraverso Di Carrasco Le azioni nostre Insomma Stiamo dominando Grande portiere Di testa La salva sulla linea Benz Adesso però Almeno un goletto Se lo meritano Adesso ma Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.